Come si addestrano gli astronauti? Come è fatta la Stazione Spaziale Internazionale? Come cosa si mangia nello spazio? A queste domande darà una risposta Annalisa Scarrone con tutta colpa di Galileo. Un nuovo docuviaggio di tre puntate da domenica a 4 dicembre in seconda serata su Italia 1 nato sull'onda di tutta colpa di Einstein al Cerno di Ginevra. Ora la cantante che è laureata in fisica invita a esplorare l'infinitamente grande dell'universo appunto sulle orme di Galileo. Lo spazio, l'avventura degli astronauti, l'avventura dell'uomo nello spazio è un mondo che fa parte dei nostri sogni di bambini, della nostra immaginazione, quelle domande ataviche che ritornano sempre, che cosa c'è dopo il cielo, l'universo infinito, cosa vuol dire infinito? Tutte queste cose fanno parte della nostra natura umana, il domandarsele e quindi non vedo l'ora davvero che questa bellissima avventura venga condivisa con chi la guarderà perché merita. Un viaggio in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea e Italiana e il Centro Astronautico Europeo di Colonia in cui Annalisa si è messa anche alla prova. Io ho sperimentato ad esempio appunto la centrifuga che già comunque è un'esperienza tosta perché comunque girare su questo aggeggio che ti fa così avvicinare alla sensazione di assenza di gravità è tosto. Poi io l'ho provato appunto a una velocità minore rispetto a quella con cui loro si addestrano, quindi figuriamoci la sensazione che loro provano quando fanno questo tipo di allenamento. Molti personaggi incontrati che svelano i segreti della corsa dell'uomo verso lo spazio. Dalla professoressa Amelia Ercoli Finzi, prima donna italiana laureata in ingegneria aerospaziale, agli astronauti italiani Cristoforetti, Parmitano e Nespoli. Tra tutti mi ha colpito molto il carisma di Paolo Nespoli perché è stato proprio un po' un uomo da spettacolo anche. Oltre a tutte le altre cose ci ha proprio avvolto con la sua energia e ci ha così fatto sognare di essere con lui nello spazio. Un'avventura targata a due bi-produzioni di Luna Berlusconi che prova a cercare spazio in televisione per la scienza e la cultura, raccontate però in modo nuovo, semplice e anche pop. Questo è stato il voler continuare sulla scienza, sulla fisica per poi, si spera, nelle future edizioni passare anche ad argomenti diversi ma sempre di grande eccellenza sia italiana che europea.